18 persone, 14 pazienti e 4 operatori sanitari della casa di riposo Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crucifisso di Foggia sono risultate positivi al virus Covid. La conferma arriva direttamente dalla struttura dove specificano che attualmente tutti i positivi sono in condizioni di salute stabili. Del caso è già stata informata la ASL di Foggia che ha provveduto a svolgere la procedura prevista dal protocollo e a cercare di risalire alla catena dei contatti. Un altro focolaio è stato registrato a Carpino, sul Gargano presso la comunità riabilitativa La Fenice. Qui sono risultate positive al Covid 6 persone tra cui 4 operatori sanitari e 2 pazienti. Anche in questo caso la ASL di Foggia sta provvedendo a svolgere le procedure del caso.